Il massimo per il momento che abbiamo di criticità sono 19 zone, alcune le conosciamo già e a questo per ogni zona gli interventi che dovremmo fare e che stiamo già facendo. Ecco il report degli interventi redati dal settore lavori pubblici del comune di Treviso all'indomani del 23 settembre scorso quando diverse zone della città subirono allagamenti e disagi. Via degli Stretti e San Bartolomeo dove si formano le conche quando piove troppo saranno i primi interventi da mettere a terra. Con il consorzio Acque Sorgive abbiamo il protocollo di manutenzione del rio Fuin che è importantissimo per il deflusso specie delle piogge eccezionali e con il consorzio Piave stiamo facendo, concordando insieme a loro un altro, un terzo bacino di laminazione che andrà a proteggere i terreni a nord della ferrovia sopra la Ghirada che ancora adesso in parte si allaga. Intanto 10 milioni sono state investite in opere di messa in sicurezza idraulica con la creazione dei due bacini di laminazione e la pulizia straordinaria delle 28 mila caditoie presenti in città. La pulizia è cantierizzata per 10 mila di queste ogni anno ma il grande obiettivo è quello di concerto con tutti i comuni riviereschi e punta al Sile. La richiesta dell'escavazione del Sile, questa è una cosa importantissima perché andremo a pulire e scavare il fondo del Sile ovviamente con tutte le tecniche che salvaguardano i biotipi, l'ambiente, tutte le risorse naturali e ambientali, però questo non si fa da circa 60 anni. Anche lì il Sile avrebbe maggiore capacità di portata. Un tavolo coordinato con genio civile e regione che ha permesso la rimessa in funzione dello sgrigliatore di Sile, a margine il sistema di monitoraggio e telecontrollo dei sottopassi, oltre all'escavo dei cagnani cittadini. Un'operazione che non si faceva da vent'anni e che permette di ricevere più acque meteoriche e gestire dunque meglio le abbondanti piogge dell'autunno in arrivo.